La amata Nicole Kidman, ora felicemente sposata con Keith Urban, ha affrontato le sue giuste quote di tempeste nella vita. Dalla sopravvivenza a un incendio domestico in Australia, fino a combattere con le sfide legate alla fertilità e oltre, il suo percorso è stato caratterizzato da resilienza. Tuttavia, tra le sue prove personali, un capitolo che continua a catturare l'interesse del pubblico è il suo tumultuoso divorzio da Tom Cruise. Nonostante il passare del tempo, le complessità del loro matrimonio e la successiva separazione rimangono un argomento affascinante, con nuove rivelazioni che continuano a emergere. Ora, a 56 anni, Kidman ha scelto di rompere il silenzio, ammettendo finalmente ciò che tutti noi sospettavamo. Quindi, come si è svolta la vita di Kidman dopo il suo divorzio molto pubblicizzato? Unisciti a noi mentre esploriamo queste rivelazioni e i capitoli della sua vita oltre i riflettori. Iniziamo. Prima di tuffarci nella recente rivelazione di Kidman che finalmente ammette ciò che tutti avevamo sospettato, è importante capire la sua vita precoce e dove tutto è iniziato per lei. La vita precoce di Nicole Kidman. Nicole Mary Kidman è nata il 20 giugno 1967 a Honolulu, Hawaii, mentre i suoi genitori australiani studiavano temporaneamente negli Stati Uniti. Sua madre, istruttrice di infermieristica, editava anche i libri di suo marito, mentre suo padre, Anthony Kidman, era biochimico, psicologo clinico e autore. Kidman ha una sorella minore di nome Antonia Kidman, che lavora come giornalista e presentatrice televisiva. Nata alle Hawaii da genitori australiani, Kidman possiede la doppia cittadinanza di Australia e Stati Uniti, con ascendenze inglesi, irlandesi e scozzesi. Le fu dato il nome hawaiano Okulani, che significa stella celeste, ispirato da un cucciolo di elefante nato allo zoo di Honolulu circa nello stesso periodo. Quando Kidman nacque, suo padre era uno studente laureato all'Università delle Hawaii a Manoa, diventando in seguito un ricercatore ospite presso il National Institute of Mental Health negli Stati Uniti. I suoi genitori, contrari alla guerra del Vietnam, parteciparono a manifestazioni contro la guerra mentre vivevano a Washington, D.C., poco dopo la nascita di Kidman. Alla fine, la sua famiglia tornò in Australia tre anni dopo. Kidman crebbe a Sydney, frequentando la Lane Cove Public School e il North Sydney Girls High School. Iniziò a prendere lezioni di balletto all'età di tre anni e mostrò un talento naturale per la recitazione durante gli anni della scuola primaria e superiore. Kidman ha raccontato che il suo desiderio di diventare attrice nacque guardando l'interpretazione di Margaret Hamilton nella parte della strega cattiva dell'Ovest né il mago di Oz. Nonostante le sue aspirazioni, ammise di essere stata piuttosto timida da bambina, rivelando «sono molto timida, davvero timida. Avevo persino un difetto di pronuncia da piccola, che ho superato lentamente, ma ogni tanto torno in quella timidezza. Quindi non mi piace entrare da sola in un ristorante affollato. Non mi piace andare a una festa da sola. Durante l'adolescenza frequentò il Phillip Street Theatre, dove conobbe l'attrice Naomi Watts, e il Australian Theatre for Young People, dove esplorò il dramma e il mimo come mezzo di fuga. La sua pelle chiara e i capelli rossi naturali la portarono a cercare rifugio dal sole nei corridoi del teatro. Come frequentatrice abituale del Phillip Street Theatre, ricevette incoraggiamenti a perseguire la recitazione a tempo pieno, portandola infine ad abbandonare il liceo. La sua carriera in ascesa non riuscì a salvarla dalle tempeste che la vita aveva in serbo per lei. Quali erano queste tempeste? Ha trionfato o no? Continua a guardare per saperne di più. Primi passi nella carriera e ascesa alla fama. Nel 1983, all'età di 16 anni, Kidman fece il suo debutto cinematografico in un rifacimento del classico australiano Bush Christmas. Entro la fine di quell'anno ottenne un ruolo secondario nella serie televisiva Five Mile Creek. Tuttavia, nel 1984, la diagnosi di cancro al seno di sua madre portò Kidman a mettere in pausa temporaneamente la sua carriera di attrice, mentre studiava terapia del massaggio per aiutare la madre nella riabilitazione. Durante gli anni Ottanta, Kidman iniziò a guadagnare riconoscimenti attraverso apparizioni in diversi film australiani, tra cui la commedia d'azione BMX Bandits e la commedia romantica Windreader. La sua presenza si espanse a vari programmi televisivi australiani nel corso del decennio, con ruoli notevoli nella miniserie del 1987 Vietnam, che le valse il suo primo Australian Film Institute Award. La sua carriera continuò a crescere con ruoli nel film australiano Emerald City, per il quale ricevette il suo secondo Australian Film Institute Award e nel thriller Dead Calm, al fianco di Sam Neill. La sua interpretazione in Dead Calm le garantì riconoscimenti internazionali, segnando il suo ruolo di svolta. Dopo il suo successo, Kidman recitò nella miniserie Bangkok Hilton, prima di unirsi al suo allora fidanzato, e in seguito marito, Tom Cruise, nel film d'azione sportivo del 1990 Days of Thunder. Questo film la catapultò alla fama internazionale, diventando uno dei film di maggior successo dell'anno. Nel 1991, Kidman recitò accanto a Tandiu Newton e alla sua ex compagna di classe Naomi Watts nel film indipendente australiano Flirting. Il film, una storia di crescita su ragazze delle scuole superiori, vinse l'Australian Film Institute Award per il miglior film. Nello stesso anno, la performance di Kidman in Billy Bethgate le valse una nomination ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Il New York Times la lodò, descrivendola come una bellezza con un senso dell'umorismo. L'anno seguente, Kidman si riunì con Cruise per l'epico irlandese di Ron Howard For and Away, che ricevette un successo critico e commerciale moderato. Nel 1993, recitò nel thriller Malice, accanto ad Alec Baldwin, e nel dramma My Life, con Michael Keaton. Matrimonio e separazione da Tom Cruise. Kidman e Cruise si sposarono la vigilia di Natale nel 1990 in Colorado. Si erano incontrati per la prima volta nel 1989, mentre lavoravano insieme alla produzione del film Days of Thunder. Anche durante il suo matrimonio apparentemente idilliaco con Cruise, Kidman rimase dedicata alla sua carriera di attrice nel mezzo del glamour di Hollywood. Recitò in film di successo come To Die For, nel 1995, e Practical Magic, nel 1998, collaborando con Cruise nel film di Stanley Kubrick Eyes Wide Shut, nel 1999, consolidando così il loro status di coppia potente. Tuttavia, iniziarono a manifestarsi crepe sotto la superficie. Nonostante fossero visti come la coppia d'oro di Hollywood, Kidman e Cruise scioccarono il mondo con l'annuncio del loro divorzio nel 2001. Il mondo rimase sbalordito quando la famosa coppia di Hollywood si separò dopo più di un decennio insieme. Nonostante il dolore, la grazia e la compostezza di Kidman durante le procedure di divorzio commossero molti. Il suo atteggiamento dignitoso durante il lungo processo parlò chiaro. Tuttavia, un momento di gioia in mezzo al tumulto divenne iconico quando Kidman, uscendo dall'ufficio del suo avvocato, fu fotografata mentre saltava di gioia. Questa immagine simboleggiava la sua ritrovata libertà e resilienza. Durante il loro matrimonio, Kidman affrontò battute sulla sua altezza rispetto a quella di Cruise, ma le gestì con grazia. Quando le venne chiesto quali fossero i vantaggi dell'essere single nel programma di David Letterman, la risposta ironica di Kidman ora posso indossare i tacchi, mostrò con umorismo la sua nuova indipendenza. Nonostante le difficoltà, Kidman scelse di non soffermarsi sugli aspetti negativi del suo divorzio. Parlò di Cruise con rispetto, evitando di attribuire colpe. Riconoscendo la tristezza, attribuì la loro separazione all'impulsività giovanile, piuttosto che a colpe reciproche. Nonostante il dolore, trovò conforto nell'amore profondo che condivideva con i suoi figli, Bella e Connor, che considerava i doni più grandi del suo matrimonio con Cruise. Motivi del divorzio e battaglia per la custodia. Ci furono molte speculazioni, comprese voci di infedeltà e sul ruolo della Scientology nella loro separazione. La Scientology, un movimento controverso, influenzò a quanto pare le credenze e lo stile di vita di Cruise, promuovendo l'accettazione delle realtà, dei difetti e della bellezza della vita. L'abbraccio pubblico di Cruise per la Scientology suscitò speculazioni riguardo al suo impatto sul matrimonio con Kidman. Mentre Cruise lodava la sua fede, le voci su possibili effetti negativi sulla loro relazione continuavano a circolare. Nonostante la vasta speculazione riguardo alla loro rottura, Kidman mantenne il silenzio, preferendo la privacy in mezzo a un intenso scrutinio pubblico. Tuttavia, la narrativa sul ruolo della Scientology nella loro separazione continuò a persistere, aggiungendo complessità alla dinamica della loro relazione. Nonostante le sfide e la tristezza, Kidman si confrontò con una profonda malinconia su alcuni aspetti della sua vita, affrontando realtà dolorose che erano difficili da accettare. Un aspetto particolarmente doloroso riguardava le dinamiche complesse relative ai suoi figli, Isabella e Connor. Nonostante apparisse allegra e cortese in pubblico, Kidman non riusciva a nascondere il profondo dolore provato quando i suoi figli decisero di rimanere con Cruise e all'interno della chiesa di Scientology. La loro scelta di allontanarsi da lei creò un vuoto doloroso, suscitando speculazioni su un possibile allontanamento tra Kidman e i suoi amati figli. Nonostante le voci, Kidman optò per il silenzio riguardo alla questione, dando priorità alla privacy della sua famiglia in mezzo allo scrutinio pubblico. Un viaggio verso un nuovo amore. Durante il suo divorzio da Tom Cruise, Kidman trovò conforto e guarigione in un nuovo amore. Desiderosa di mantenere la sua vita personale privata, nascose agli occhi del pubblico la sua nascente relazione con Keith Urban. La loro storia d'amore prosperò lontano dai riflettori dei media, fino a quando Kidman annunciò finalmente il loro fidanzamento nel 2006. La notizia suscitò entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori, portando a un matrimonio australiano stellare a cui parteciparono personaggi come Russell Crowe, Hugh Jackman e la cara amica di Kidman, Naomi Watts. Tuttavia, nonostante la speranza portata dalla sua nuova relazione, Kidman affrontò nuove sfide. Poco dopo aver sposato Urban, emersero notizie sul suo ingresso in riabilitazione per affrontare la dipendenza dall'alcol. Questa rivelazione scosse la loro relazione, presentando a Kidman un ulteriore ostacolo da superare nel suo viaggio verso un nuovo amore. Tuttavia, Kidman rimase salda al fianco di Urban, offrendo un supporto incrollabile mentre intraprendeva il suo percorso di recupero. Il loro legame si fece ancora più forte mentre affrontavano insieme questo momento difficile. Il triste viaggio di fertilità di Kidman In mezzo alle sfide della vita, Kidman dovette confrontarsi con la profonda lotta personale di concepire un figlio. Nonostante il suo forte desiderio di espandere la famiglia, il cammino verso la genitorialità fu costellato di dolore e delusioni. Kidman condivise apertamente il costo emotivo del suo viaggio di fertilità, incluso il dolore per un aborto spontaneo all'inizio del suo matrimonio con Tom Cruise. La perdita del loro bambino non ancora nato influenzò profondamente la loro relazione, portando Kidman e Cruise a considerare altre strade per diventare genitori. Alla fine scelsero di adottare Isabella e Connor, offrendo amore e cura a bambini bisognosi. Riflessioni su questa perdita portarono Kidman a parlare con franchezza del suo desiderio di maternità e della tristezza per il loro aborto spontaneo, mettendo in evidenza il percorso emotivo di costruzione di una famiglia. Durante il viaggio di Kidman verso la maternità, la sua resilienza e determinazione emersero, guadagnandosi l'ammirazione e l'empatia di fan e media. La sua disponibilità a condividere le sue difficoltà con l'infertilità e gli aborti spontanei risuonò con molti che avevano affrontato sfide simili, invitando gli altri nella sua storia personale di superamento degli ostacoli lungo il cammino verso la maternità. La gioia finale, l'arrivo dei figli biologici di Kidman. La nascita del primo figlio biologico di Kidman suscitò gioia e celebrazione tra i fan che avevano seguito il suo difficile viaggio verso la genitorialità. Dopo aver affrontato battute d'arresto come una gravidanza ectopica e numerosi aborti spontanei, la nascita della sua bambina rappresentò un trionfo sulla disperazione. Kidman riconobbe apertamente il difficile percorso verso la concezione, evidenziando il miracolo della maternità e infondendo il suo nuovo ruolo di significato e gratitudine. Il suo viaggio non riguardava solo il superamento delle avversità, ma anche l'abbraccio delle diverse forme di amore e famiglia che arricchirono la sua vita. Il forte legame con il marito Keith Urban e la loro figlia portò immensa gioia e realizzazione, offrendo conforto dopo la sua dolorosa rottura con la sua prima famiglia. L'amore di Kidman per i suoi figli andava oltre la biologia, enfatizzando la profonda connessione e appartenenza che definì il suo percorso come madre. Accogliendo la sua seconda figlia, Faith Margaret, attraverso la surrogata, Kidman abbracciò la diversità della sua esperienza materna. Il cammino di Nicole Kidman verso la maternità fu vario, contrassegnato da gioie e sfide uniche. Con una famiglia allargata, che rappresentava la genitorialità moderna, Kidman abbracciò il suo ruolo materno con amore incrollabile, manifestando il sogno di maternità che aveva a lungo desiderato attraverso quattro figli, ognuno testimone del suo profondo impegno e amore incondizionato. Anche se i suoi figli adottivi, Isabella e Connor, vivevano con il padre, Tom Cruise, Kidman apprezzava ogni occasione per nutrire il loro legame, nonostante la distanza. Indipendentemente dalle sfide poste dalle loro sistemazioni abitative, l'amore di Kidman per i suoi figli rimase incrollabile, trascendendo le barriere geografiche e le circostanze. Dopo il suo divorzio molto pubblicizzato da Tom Cruise, Kidman trovò conforto e stabilità nella sua crescente relazione con Keith Urban. Abbracciando un nuovo capitolo con il marito, Kidman custodì i momenti tranquilli di felicità domestica nel corso del loro viaggio insieme. Mentre Cruise inseguiva una relazione pubblica con Katie Holmes, Kidman adottò un approccio più riservato, concentrandosi sulla sua carriera e sulle sue aspirazioni artistiche nel mezzo dei pettegolezzi e delle speculazioni di Hollywood. La carriera avanzata di Nicole Kidman e i progetti futuri. Kidman mantenne la sua grazia e compostezza, evitando il sensazionalismo riguardante le sue relazioni passate. Invece dedicò la sua energia al suo mestiere, offrendo performance affascinanti che impressionarono sia il pubblico che la critica. Da Princess Grace Kelly in Grace of Monaco a Big Mama Lioness in Paddington, il talento di Kidman continuò a brillare sul grande schermo. Lion, uscito nelle sale nel 2016, segnò un punto di svolta nella stimata carriera di Nicole Kidman, elogiato da molti come la sua performance più convincente fino ad oggi. In questo film toccante, il personaggio di Kidman intraprende un viaggio di adozione, profondamente in risonanza con le sue esperienze come madre di figli adottivi. Parlando con la rivista Town & Country, Kidman condivise l'importanza emozionale del ruolo, descrivendolo come un omaggio sincero ai suoi figli. Sottolineò il tema dell'amore incondizionato, affermando la sua ferma dedizione a sostenere e apprezzare i suoi figli, indipendentemente dai loro percorsi. Nonostante il suo status consolidato come icona di Hollywood, Kidman sorprese il pubblico immergendosi nella televisione, segnalando un notevole cambiamento nella sua carriera. La sua decisione di unirsi al cast della serie acclamata dalla critica Big Little Lies di HBO ricevette ampi consensi e riconoscimenti. Lo show catturò gli spettatori con la sua trama avvincente e le straordinarie performance, ottenendo numerosi premi. Kidman ha una folta lista di impegni futuri sia davanti che dietro la macchina da presa. È prevista nel cast e come produttrice in diversi progetti su varie piattaforme di streaming. Per Netflix parteciperà a The Perfect Couple, adattato dal romanzo di Ellen Hildebrand, e produrrà la serie televisiva australiana The Last Anniversary, basata sul libro di Leanne Moriarty. Inoltre lavorerà a una serie per Amazon Prime Video, basata sui romanzi di Kay Scarpetta di Patricia Cornwell, e a un adattamento HBO del libro di Leila Slimani, The Perfect Nanny. Inoltre è prevista anche una serie di Apple TV intitolata Margot's Got Money Troubles. Oltre a questi progetti, Kidman sarà protagonista e produttrice di altre quattro serie televisive. Farà parte di Crime Farm di Warner Media, una serie psicoseksuale, e dell'adattamento del film drammatico norvegese Hope, intitolato Hope. Ci sarà anche Pretty Things, una miniserie thriller basata sul prossimo romanzo di Janelle Brown, e Things I Know To Be True, una serie drammatica familiare basata sull'omonimo spettacolo australiano prevista per Amazon Prime Video. A differenza degli altri, Things I Know To Be True è pianificata come una serie continua con più stagioni. Oltre alle sue avventure televisive, Kidman è in programma per ruoli in film come Baby Girl per A24, diretto da Halina Ryan, e Mice, diretto da Justin Kurzel. Controversie agli Emmy Awards, la transizione di Kidman dal grande schermo alla televisione ha messo in evidenza la sua versatilità come attrice, guadagnando le elogi sia da parte della critica che del pubblico. La sua interpretazione in Big Little Lice le ha affruttato prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e un Emmy, confermando il suo talento in diversi formati narrativi. Tuttavia, il suo discorso di accettazione dell'Emmy ha suscitato polemiche tra alcuni fan. Mentre Nicole Kidman accettava con grazia il suo premio Emmy, pronunciò un discorso commovente in cui esprimeva gratitudine ai suoi cari che l'hanno sostenuta nel corso della sua carriera nell'industria dell'intrattenimento. Con genuina emozione ha riconosciuto la sua vasta famiglia artistica e il supporto costante ricevuto durante i momenti di successo e difficoltà. Le parole sincere di Kidman risuonarono profondamente tra il pubblico, mentre menzionava affettuosamente le sue due figlie, Sunday e Faith, e il suo devoto marito, Keith, che ha avuto un ruolo cruciale nel nutrire le sue aspirazioni creative. Tuttavia, tra il calore e l'applauso che accompagnarono il suo discorso, si avvertì una mancanza udibile. I suoi figli maggiori, Isabella e Connor. La loro esclusione da questo riconoscimento affettuoso suscitò speculazioni e attirò l'attenzione dei media e del pubblico. Mentre alcuni interpretarono il suo discorso come un favoritismo verso i suoi figli biologici, chi era vicino a Kidman comprese la realtà sfumata della sua situazione. Si trattava di una questione di scelte personali e percorsi individuali, piuttosto che di un riflesso di un amore o affetto ridotto. In risposta ai scrutinio, Kidman rimase ferma nella sua posizione, sottolineando l'amore incondizionato che prova per tutti i suoi figli. Nonostante i malintesi e le interpretazioni errate che emersero, ribadì l'importanza fondamentale dell'amore e del sostegno nella genitorialità. Gratitudine e riflessioni. In mezzo al luccichio e al glamour di Hollywood, l'umiltà e la gratitudine di Nicole Kidman continuarono a brillare. Anche dopo anni di successi e il suo status come una delle figure più importanti dell'industria, rimase con i piedi per terra e riconoscente verso le persone che hanno influenzato la sua vita. In un'intervista sincera con Entertainment Tonight, nel maggio 2019, Kidman condivise apertamente la sua gratitudine, in particolare nei confronti degli uomini influenti della sua vita. Lodò calorosamente il marito come un partner eccezionale, sottolineando la sua apprezzamento per la semplicità e l'autenticità. Inoltre, Kidman rifletté sull'impatto significativo che ha avuto suo padre, esprimendo la sua gratitudine per avere un padre così straordinario. Tuttavia, nonostante la sua fama e la sua ricchezza, Kidman affrontò un'esperienza difficile nel 2020, quando gli incendi boschivi australiani minacciarono la sua casa e le aree circostanti. Pur essendo una delle celebrità più ricche del mondo, Kidman si trovò di fronte alla dura realtà della furia della natura. Per rassicurare i fan preoccupati, rivelò a Extra che, sebbene la loro casa fosse rimasta illesa, era scampata per un soffio alla distruzione durante l'incendio devastante. Ripensando al suo percorso romantico, Kidman ricordò con affetto la sua travolgente relazione con Tom Cruise, che catturò l'attenzione del pubblico. La loro storia d'amore iniziò sul set di Days of Thunder nel 1990, dove la loro chimica sullo schermo si trasformò in una relazione reale. In mezzo al turbine di infatuazione si scambiarono voti e intrapresero un percorso matrimoniale che durò oltre un decennio. Kidman parlò apertamente della loro relazione, riconoscendo la rapidità con cui si erano sposati. Nonostante l'emozione giovanile dei loro primi anni insieme, riconobbe la crescita e la maturità che accompagnarono il loro cammino condiviso. Sebbene le ragioni della loro separazione rimangano poco chiare, i sentimenti sinceri di Kidman per Cruise mettono in luce l'affetto duraturo che prova per il suo ex coniuge. Durante un'intervista franca con CBS News, Kidman espresse apertamente il suo amore per Cruise, sottolineando la sua importanza nella sua vita oltre la fama. Con il passare del tempo nuove rivelazioni emersero, illuminando le turbulenze emotive che Kidman affrontò in quei momenti difficili. Recentemente ha condiviso un'altra parte della sua storia, raccontando un momento toccante che mise in mostra la sua resilienza di fronte alle avversità. Vincere un Oscar nel 2003 per il suo ruolo in The Hours avrebbe dovuto essere un momento di trionfo. Tuttavia, l'ombra del suo matrimonio travagliato con Cruise incombeva pesantemente. La loro relazione non riguardava solo loro stessi, ma anche l'educazione dei loro figli insieme. Indipendentemente dal loro legame un tempo forte, esso si frantumò sotto il peso di differenze inconciliabili, costringendo Kidman a trovarsi sotto i riflettori mentre navigava nelle conseguenze. Il tempismo del loro divorzio non avrebbe potuto essere peggiore, avvenendo proprio quando la carriera di Kidman raggiungeva il culmine. Nominata per un premio Oscar, dovette affrontare tormenti personali in mezzo a un successo professionale. In un resoconto dettagliato tratto dal libro di Dave Carr, 50 Oscar Knights, Kidman descrive le conseguenze della sua vittoria all'Oscar. Piuttosto che indulgere nel glamour di Hollywood, trovò conforto in un semplice pasto da asporto con la sua famiglia all'hotel Beverly Hills. Fu un momento di profonda realizzazione per Kidman, in mezzo al caos personale, riconoscendo la necessità di un amore al di là della fama. Con determinazione, Kidman intraprese un viaggio per trovare amore e felicità. Cinque anni dopo il divorzio, trovò conforto tra le braccia di Keith Urban. Oggi, celebrando 17 anni di matrimonio, la vita di Kidman è una testimonianza di resilienza e amore duraturo. Insieme hanno costruito una famiglia felice, dimostrando la forza incrollabile di Kidman di fronte alle avversità. La resilienza di Kidman è la conferma scioccante. La conferma di Nicole Kidman del suo matrimonio con Keith Urban avvalora ciò che molti sospettavano riguardo al loro amore duraturo. Dal loro matrimonio nel 2006, Nicole Kidman e Keith Urban sono diventati figure amate di Hollywood, affascinando i fan con la loro relazione affettuosa. Le loro due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, simboleggiano il loro forte impegno verso la famiglia e l'uno per l'altra. La loro storia d'amore è iniziata con un incontro casuale che Urban ricorda vividamente. La presenza di Kidman ha lasciato un'impressione duratura, con Urban che ricorda come sia sembrata entrare nella sua vita con facilità. Nonostante i suoi nervi, Urban ha preso l'iniziativa di presentarsi, gettando le basi per una storia d'amore che ha superato ogni aspettativa. Kidman ha espresso apertamente l'impatto profondo che Urban ha avuto nella sua vita, definendolo l'amore della sua vita. Riflessioni su un momento toccante del suo trentottesimo compleanno, Kidman ha condiviso come il gesto sincero di Urban, che si trovava davanti alla sua casa di New York con Gardenie alle cinque del mattino, abbia confermato la sua convinzione che fosse l'uomo con cui voleva passare la vita. Questo aneddoto parla chiaro della profondità della loro connessione. Il percorso di Kidman per trovare un amore duraturo con Urban ha avuto le sue difficoltà. Nonostante le sfide, la resilienza di Kidman e la sua incrollabile fiducia nell'amore l'hanno portata a trovare felicità con Urban. Le riflessioni sincere di Kidman sul suo matrimonio con Urban offrono una visione rinfrescante della loro relazione, sfatando l'idea di un'unione perfetta. Nonostante l'immagine da favola spesso associata al loro romance, Kidman sottolinea che sono come qualsiasi altra coppia che affronta le sfide della vita insieme. In un'intervista con il programma Today Show in Australia, Kidman ha rifiutato l'idea di essere vista come una coppia modello, affermando che il loro obiettivo è semplicemente quello di godere di una vita appagante insieme. Non aspiriamo a essere visti come una coppia perfetta, vogliamo solo vivere felici insieme, ha sottolineato Kidman, riconoscendo l'unicità di ogni relazione. Ha evidenziato l'importanza di preservare la loro privacy e mantenere le proprie identità come coppia. Riconoscendo le difficoltà imposte dai loro impegni frenetici, Kidman ha spiegato come gestiscano i loro obblighi. Mentre bilanciano i progetti cinematografici di lei e i tour di Urban danno priorità a una comunicazione aperta e alla comprensione reciproca. Ci organizziamo insieme, ha osservato Kidman, enfatizzando il loro lavoro di squadra nell'organizzare i programmi per trascorrere del tempo di qualità come famiglia. Nonostante le loro carriere intense, Kidman ha ribadito che il loro principale focus rimane l'uno sull'altro e sulle loro due figlie. Il loro impegno costante nel coltivare il loro legame in mezzo al caos di Hollywood è una testimonianza della loro forte connessione e dei valori familiari condivisi. In sintesi, le rivelazioni di Nicole Kidman sui suoi matrimoni con Tom Cruise e Keith Urban offrono uno sguardo sulla realtà che si cela dietro il glamour delle relazioni di Hollywood. Condividendo le loro difficoltà e priorità, Kidman ci ricorda che l'amore non è sempre una passeggiata e va bene non puntare alla perfezione. L'eredità e i premi di Kidman Nicole Kidman è ampiamente elogiata come una delle attrici più straordinarie della sua era. Nota per la sua disponibilità ad affrontare ruoli impegnativi in progetti non convenzionali diretti da registi visionari, ha guadagnato una reputazione per le sue performance dinamiche in una vasta gamma di film che abbracciano quasi quattro decenni. Nonostante le intense critiche pubbliche sulla sua vita privata all'inizio della carriera, Kidman è emersa come un talento formidabile, ammirata per la sua capacità di reggere il confronto con i migliori dell'industria mantenendo la propria autenticità. Vanity Fair la loda come un grande talento, evidenziando la sua abilità di dominare lo schermo e di connettersi con il pubblico a un livello profondo. Il New York Times attribuisce gran parte del suo fascino alla sua determinazione incrollabile e resilienza, notando la sua capacità di catturare gli spettatori con la sua semplice presenza. Emily Nussbaum di The New Yorker osserva una qualità unica nelle performance di Kidman, sottolineando la sua abilità di trasmettere profondità e complessità mantenendo un'aura enigmatica. L'influenza di Kidman va oltre lo schermo, guadagnandole un posto tra le persone più influenti del mondo, secondo Time Magazine in più occasioni. Nel 2020 il New York Times l'ha riconosciuta come una delle migliori attrici del XXI secolo e nel sondaggio dei lettori di Empire Magazine del 2022 è stata votata tra i 50 più grandi attori di tutti i tempi. Kidman è conosciuta per la sua dedizione al metodo di recitazione, immergendosi completamente nei suoi ruoli. I critici hanno notato la sua straordinaria capacità di subire trasformazioni fisiche, mentali ed emotive per incarnare i suoi personaggi, a volte a discapito del suo benessere. Mark Caro del Los Angeles Times descrive l'approccio di Kidman come una profonda metamorfosi, paragonandolo a un bruco che si trasforma in farfalla. W Magazine sottolinea l'abilità camaleontica di Kidman di abitare i suoi personaggi così profondamente da diventare indistinguibile da essi, conferendo una presenza distintiva ai suoi film. Accademici hanno analizzato il suo stile di recitazione con Sharon Marie Carnick, che la loda per le sue reazioni credibili e naturali alle circostanze dei mondi dei suoi personaggi, mentre Dennis Bingham osserva un distacco deliberato nelle sue performance, con le risposte emotive presentate come segnali piuttosto che reazioni spontanee. Pam Cook suggerisce che l'attenzione di Kidman sulla tecnica e sull'artificio nella sua recitazione si allinea a un approccio espressivo cinematografico, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sul corpo e le intenzioni dell'attore. Mary Lackhurst mette in evidenza la propensione di Kidman a superare i suoi limiti e, ad abbracciare la versatilità, immergendosi così profondamente in un ruolo da parlare di perdersi all'interno di esso. La sua disponibilità a mettersi alla prova ha guadagnato ammirazione da parte dei colleghi e dei professionisti del settore, dimostrando il suo impegno per il suo lavoro. Kidman è celebrata non solo per la sua abilità recitativa, ma anche per il suo influente senso della moda, guadagnandosi il titolo di Icona della Moda. Le sue scelte di abbigliamento hanno fatto un'impressione significativa sul red carpet, con il suo abito chartreuse di Dior agli Academy Awards del 1997, celebrato come uno dei più iconici nella storia degli Oscar. Vogue elogia la sua capacità di padroneggiare l'abbigliamento dal red carpet, citando momenti di spicco, come il suo impeccabile ensemble rosso di Balenciaga agli Oscar del 2007 e l'indimenticabile abito da ballerina di Calvin Klein al festival di Cannes del 2017. Insider nota l'audace sperimentazione di Kidman con varie tendenze di moda nel corso degli anni, che spaziano da colori vivaci a gioielli appariscenti, consolidando il suo status di figura iconica nella moda delle celebrità. In riconoscimento della sua influenza, nel 2003 è stata onorata con il Fashion Icon Award dal Council of Fashion Designers of America. Peter Arnold, direttore esecutivo della CFDA, loda l'impatto di Kidman sulla moda, riconoscendo la sua comprensione innata dell'arte dell'abbigliamento e la sua elegante definizione di uno stile personale che risuona in tutto il mondo. Il talento di Kidman le ha guadagnato riconoscimenti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences in più occasioni. Nel 2003 è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame in riconoscimento delle sue straordinarie contribuzioni all'industria cinematografica. Oltre alla sua vittoria all'Oscar come migliore attrice, Kidman ha accumulato numerosi altri premi, tra cui quattro ulteriori nomination agli Academy Award. Un BAFTA Award da 5 nomination, due Prime Time Emmy Awards da 3 nomination, un Screen Actors Guild Award da 15 nomination, tre Critics' Choice Awards da 15 nomination e sei Golden Globe Awards da 17 nomination, tra molti altri. Grazie per aver guardato questo video, speriamo che lo troviate interessante. Cliccate sul link sullo schermo per mettervi al passo con le vostre celebrità preferite. A presto!